Potenti della terra, dicendo a Natuzza, di a tutti di pregare molto per scongiurare i pericoli della guerra e perché i potenti abbrino i lumi ad agire diversamente e non danneggiare le creature vittime innocenti. Pregati perché si illumine la loro mente, pensano di essere potenti ma ci sarà anche per loro la fine. Io li amo per come sono, però vorrei la loro conversione. Diciamo il pensiero e poi ci diciamo il rosario.